Il PDL ZAN verso la mediazione Ostellari, che è il presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatore leghista, riconvocare la capa di gruppo. Il segretario del PD Enrico Letta aveva aperto una trattativa per alcune modifiche non sostanziali al testo, lo ha detto ieri da Fabio Fazio. Qui Marco, mi devi dare le scienze di sopravvivenza del DDL ZAN e soprattutto di un DDL ZAN che abbia un senso. A me ha colpito, di quanto detto ieri da Letta, che ha incaricato ZAN di fare la mediazione in prima persona, che da un lato è un riconoscimento politico per il padre della legge, dall'altro, diciamolo pure, è una bella gatta da pelare perché è una mediazione che ZAN ovviamente tenterà di tenere il più possibile sul merito della legge, e quindi modifiche non sostanziali. Ma sappiamo che gli altri partiti, invece, Luca citava Ostellari della Lega, ma è appena uscita anche una e-news, come si chiama in gergo, di Matteo Renzi, dove dice che Enrico Letta ha riaperto la scatola ed è un merito anche nostro di Italia Viva. che sia tutto merito di Italia Viva è quasi un tormentone, quindi non ci torno su. Da bravi a scegliere, diciamo. Però è chiaro che se tu riapri la scatola e cerchi una mediazione, l'approvazione del DDL potrebbe anche allontanarsi. Quindi c'è anche il punto che il PD non può perdere la faccia dopo che per mesi ha proclamato che senza se e senza ma il DDL deve essere approvato. Gli altri partiti comunque hanno almeno riconosciuto la questione della discriminazione e poi c'è un pezzo di società che ritiene che non può avere... Anche qui il tempo è scaduto, ecco, come dicevamo prima dell'ambiente. Anche sui diritti il tempo è scaduto. Non è possibile che sulle questioni ambiente e diritti vengono sempre messe in fondo alla fila. Anche su questo il tempo è scaduto. Tiziana, io ringrazierei... Grazie Marco, grazie davvero. Ringrazierei Marco Damilano che è venuto a Tagadà nel giorno del suo compleanno. Quindi diciamo proprio molto amico di Tagadà. Sì, vale di più, vale moltissimo. Vale moltissimo. Grazie Marco al direttore dell'Espresso. Grazie ancora, grazie. Anche perché ho visto che ci sono quasi tutti gli occhi...